Sono mica cattivi i cileni, ma non stimano i soldi, testimonianza di Enrico Drai, nato a Ceva, classe 1884, contadino. Mio padre, buonanima, affittava una cascina di 50 giornate in una pezza sola, mille lire l'anno di affitto, adesso si vende un pollo giovane per mille lire. Io e mio fratello Bastian, che è gemello, dalla cascina ad andare a scuola a Ceva tutti i giorni facevamo a piedi 20 chilometri. Nel 1896 ci siamo trasferiti a Poggi, in un'altra cascina da Mezzadri, dove c'era tanta vigna. La nostra padrona era la più brava padrona che c'era in Italia. Nel 1897 è venuta la tempesta, sette volte è scesa, ha fatto pulizia. Dopo la tempesta abbiamo ripreso a lavorare, il contadino non si stufa mai di lavorare, lavora sempre. Qui erano tanti i piccoli proprietari, cascine grosse, poche, come adesso. A noi nel 1897 il pane è mai mancato. Mio padre si arrangiava, ma tanti hanno fatto la fame. Tanti mangiavano solo polenta e castagne e grammi nestroni di verdura. Andavano in giornata tanti da manovale. Io in primavera andavo a scuè a pulire i canali, due lire il giorno da un sole all'altro. Non le otto ore fino ai vent'anni. Si cominciava con il sole che si levava, senza gli stivali, scalzi. A volte in marzo c'era ancora il ghiaccio nell'acqua. La gente viveva male. Sacra mundu. Nei boschi abitavano negli scau, nei casottini, negli essiccatoi. In una stanza senza fornello, senza camino. Vivevano lì dentro. Tanti vivevano così. Ancora 40 anni fa vivevano così nei boschi estate e inverno. Andavamo tanto a vie a trovare le ragazze. Camminavamo delle ore a piedi per andare a trovare una ragazza. Una volta sono andato in una stalla che ci vuole nove ore a piedi da qua per trovare una ragazza che è ancora viva adesso, che ha due o tre anni più di me. Se il prete era un personaggio importante, più di adesso. Poco alla volta la religione va giù, da tutte le parti. Una volta i carabinieri andavano sempre dal prete per le informazioni. Nel 1907 sono andati in America. Ho pagato 165 lire. Eravamo quattro di Poggi Santo Spirito. La gente ci ha accompagnati a Genova. Ci ha fatto assegnare le cucette delle più belle che c'erano. Lì a Genova, al momento del carico, è arrivato un vaporino da Napoli. Una partita, un gruppo di giovani che faceva impressione. Miserie a Napoli. Bisognava che ce ne fosse, ma non poca. Uomini, donne e bambini meridionali. 21 giorni è durato il viaggio, con la nave toscana. Mangiavamo a tavola, anche noi della terza categoria, ma in due turni. I meridionali vivevano per conto loro. Prendevano i pidocchi e li buttavano per terra. Non li ammazzavano. Avevamo una fame. L'indomani che eravamo partiti nel Golfo del Leone, c'è stata una gran burrasca. Quelli che erano già stati in America ci avevano detto «Mangiate poco o niente, né?» Quel giorno della burrasca io avevo mangiato poco e non avevo fumato. Avevo solo bevuto un bicchiere di vino buono delle bottiglie portate da casa. Invece, i napoletani avevano una fame e mangiavano. Buttavano giù quei maccheroni interi, poi facevano i fuochi, vomitavano. E andavano subito a prendere il rancio un'altra volta. Avevano fame. Erano gente più misera di noi, anche come erano calzati e vestiti. Alla sera si riunivano sempre in mezzo alla stiva. C'era uno che predicava a sua moda in napoletano. E gli altri tutto attorno ad ascoltare in silenzio. Perché mi sono deciso ad andare in America? Là avevo già un fratello. E a casa eravamo troppi. Un mio amico ha detto «Ah, io vado in America. Anche lui aveva già un fratello là. E un altro? Vado anch'io. E un altro ancora? Ah, vengo anch'io. Già che ci sono». Così siamo partiti in quattro assieme. Pensavamo di andare in Argentina a guadagnare qualche soldo. Non a fare fortuna. Mio padre mi aveva dato 200 lire. 165 le avevo spese per il viaggio. 15 lire le avevo spese alla bottega del bastimento. Con 20 lire che cosa potevo fare? Fare fortuna con niente? Noi siamo andati in Argentina. Ma altri di qui andavano negli Stati Uniti, in California e nelle miniere di Zolfo. Arrivato a Buenos Aires sono andato nella Pampa. Poi ho scritto a mio fratello, che viveva a Sant'Andres de Kindes, nella provincia di Buenos Aires. Mio fratello era in Argentina da sette anni e faceva il fabbro e il falegname. L'ho raggiunto e ho lavorato lì tre anni. Infine, con lui e un socio, sono andato a Santiago del Cile. Ah, Cramundu, a raccontare il viaggio. Siamo partiti da Buenos Aires, 22 ore di treno in pianura, e siamo arrivati a Mendoza. Poi, altre sette ore di treno per arrivare alla frontiera, a tremila metri d'altezza. Lassù c'è la cuova, una specie di stazione con due ferrovieri e basta. Lassù abbiamo perduto il treno. L'indomani siamo ripartiti addosso di Mulo. Siamo andati a prendere la ferrovia a Caracol, dall'altra parte del colle. Che freddo ad attraversare quel colle. Di là, dal colle, nevicava. Era il mese di dicembre. Un freddo d'anticristo. In Argentina tagliavano il grano e qui nevicava. Poi abbiamo preso un treno merci, vagoni da bestie. E dopo cinque ore siamo arrivati in fondo alla cordigliera delle Ande, nella città di Los Angeles. Lì c'era una vallata come fosse la vallata del Tanaro. Il giorno dopo abbiamo raggiunto Santiago del Cile. Il ciocio capitalista di mio fratello aveva un apparato ad acetilene per l'illuminazione. Aveva il brevetto di quella apparecchiatura. Ha venduto il brevetto, ha preso un mucchio di soldi e la promessa di alcune macchine da fabbro e da falegname. Ma queste macchine, che sono poi arrivate per via mare, attraverso lo stretto di Magellano, erano tutte rotte. Allora io e mio fratello siamo andati per nostro conto a lavorare sotto una ditta inglese. Eh, il cileno lo chiamano l'es roto cileno perché è sempre a pezzi, stracciato. Lavora ma beve finché ha dei soldi. Sono mica cattivi i cileni, ma non sono interessati, non stimano i soldi. Cinque mesi. Poi siamo tornati in Argentina. Assalto di Buenos Aires. Abbiamo messo una bottega da Carradore. Lavoravamo almeno 16 ore al giorno e la domenica mattina sempre. Mio fratello è ancora adesso là. Sono tornato a Ceva nel 1911. Mi sono sposato. Sono ripartito subito con mia moglie. Sempre facendo il Carradore, sono rimasto in Argentina fino al 1921. Così, per fortuna, mi sono schivato la guerra. Un mio fratello da Ceva mi aveva scritto di tornare in Italia, ma io gli avevo risposto. Se fossi lì, scapperei. Quanti riservisti. Padroni di cascine, gente che aveva delle botteghe bene incamminate. Gli pagavano il viaggio a queste famiglie intere, purché tornassero in Italia a fare la guerra. Eh, ne erano venuti tanti. Uh, quanti volontari. Alla stazione di salto, passavano dei treni completi di riservisti. Eh, erano altro che matti. Dopo la guerra, gli hanno pagato di nuovo il viaggio a tornare in Argentina. Maledivano il momento che erano andati in Italia. Dicevano, eravamo sistemati qui. Adesso siamo a zero. Nel 1921, quando sono ritornato in Italia, con il gran lavoro fatto, avevo un po' di risparmi. Mi sono comprato una casa. In Italia stava arrivando il fascismo. Eh, anche a Ceva ce n'erano dei fascisti. A Mini, un invalido della guerra del XV, i fascisti hanno fatto bere l'olio di ricino. Era rosso, Mini. È sempre stato rosso. È morto, Rosso. Mai nessuno glielo ha fatto voltare. Mini, patetta Domenico, era un uomo giusto. Un gran lavoratore. Lavorava nei boschi dei Castagneti. Aveva una pensione di 5 lire al giorno come invalido di guerra. I fascisti glielo hanno tolta quella pensione perché era sovversivo.